musica a 5 come a 5 che sta a più ci sta raggiungendo quella della GSC con Sandrun vinto, Sandrun vinto in copia con unità 2.8 col es gruppo servizio competizioni che studi vi era? era la studi via di Mariena da qualche anno che sono lì con l'ordo perché è talmente lungo il nome che hanno tracciato a questa perché non ci stava se no mi davano gli altri, i fogli a testa. Senti, qual è l'obiettivo di questa regna di lana per voi? Noi prima di tutto arrivano in vuoto e poi li fate via, perché viene via. Esatto, quindi mi raccomando collegate il cervello nella gestione di un regno così lungo e difficile. Abbiamo detto di lungo, a proposito andiamo a rispolverare il chilometraggio perché abbiamo questa sera 6,750 metri della prova in Europa, poi domani ci sono 8,6 km di lato legno. Grazie a tutti.